Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale partirà dalla situazione che è tuttora molto precaria nella maggioranza di governo e dopo i propositi espressi da una parte della coalizione PD 5 Stelle di valutare l'ipotesi di andare avanti senza Italia Viva e dopo le tante picconate da parte dei Renziani nei confronti del Premier. Oggi ci sono state parole apparentemente più caute ma non c'è dubbio che da una parte si lavori sotto traccia per un governo senza Italia Viva che non abbia bisogno né come Ministri né soprattutto come maggioranza dei voti di Italia Viva e dall'altra parte si lavori per cambiare il governo soprattutto per cambiare l'inquilino come si diceva una volta di Palazzo Chigi ovvero Conte. Che cosa succederà non lo si sa. Vi posso però già dire che noi abbiamo fatto testare da SVG l'opinione degli italiani sul dissidio sulla baruffa sul braccio di ferro tra il Premier e Matteo Renzi e vedremo i risultati nel telegiornale vedremo anche come andrebbe se si votasse oggi chi sale e chi scende in buona sostanza mentre dall'opposizione Salvini ha intrapreso una mezza crociata verrebbe da dire sul tema dell'aborto ovviamente attirandosi una serie di prese di posizione soprattutto ovviamente da chi più coerentemente da più tempo si batte per i diritti civili e anche evidentemente per il diritto all'interruzione della maternità ma vedremo anche che ci sono novità alcune preoccupanti nella battaglia contro il coronavirus c'è soprattutto quella nave da crociera da come si sa da decine di giorni all'ancora a Yokohama in Giappone si sa che si è cominciato a far scendere e a rimpatriare una parte dei turisti tra quelli che sono tornati in America c'è anche un italiano che è positivo al contagio del coronavirus ci sono però altri 35 italiani che devono tornare al più presto anche perché si è capito che quella nave da crociera è una trappola sono oltre 400 coloro che standoci dentro sono stati contagiati dal virus e Di Maio ha confermato che al più presto partirà l'operazione di rientro vedremo anche quello che sta succedendo riguardo alla Libia il cessato di fuoco è praticamente una finzione sotto la quale si continua a combattere oggi il Consiglio dei Ministri europei a Bruxelles ha di fatto deciso la fine dell'operazione Sofia che riguardava i mari del sud del Mediterraneo e ha di fatto aperto una nuova missione che consisterà nel pattugliare quelle stesse zone e anche i spazi aerei per evitare che ci sia chi fornisce di armi le due fazioni e poi andremo a parlare come ogni lunedì di e con Milena Gabanelli con il suo Data Room che oggi ha un argomento molto importante che riguarda tutti noi, il futuro, anche tanti milioni di posti di lavoro la salute del pianeta e la salute delle persone come si fa a ridurre il consumo e ridurre drasticamente il consumo della carne rossa? 30 secondi ai titoli Non si stemperano le tensioni nella maggioranza il paradosso è che tutti dichiarano di non volere la crisi ma il governo è sempre più in bilico mentre il Premier prepara l'agenda con i tavoli tematici ai quali partecipano anche gli esponenti di Italia Viva Renzi attacca ancora qualcuno vuole buttarci fuori se cade il governo non si va a elezioni ma a un nuovo esecutivo le ipotesi sembrano due o un governo elettorale senza Conte o un esecutivo senza i Renziani a cui lavorano soprattutto dall'interno del PD E' chiaro che il principale bersaglio del leader di Italia Viva è il Presidente del Consiglio Conte e nel nostro sondaggio del lunedì all'atere del consueto test su chi sale e chi scende tra le forze politiche abbiamo chiesto agli italiani chi ha ragione tra i due In Cina nuove drastiche misure restrittive per fermare la diffusione del coronavirus nella provincia di Hubei bloccati in casa 60 milioni di persone il bilancio delle vittime è ormai vicino a quota 1.800 i contagiati sono quasi 72 mila e oggi si è avuta la notizia della morte anche del direttore dell'ospedale centrale di Wuhan l'epicentro dell'epidemia si aggrava intanto la situazione tra i turisti a bordo della Diamond Princess ferma da due settimane nel porto di Yokohama in Giappone tra i contagiati c'è anche un italiano e i nostri 35 econazionali dovrebbero poter tornare nelle prossime 48 ore con un ponte aereo Intesa europea per una nuova missione militare in Libia dalla fine di marzo obiettivo far rispettare con mezzi navali e aerei l'accordo sull'embargo di armi alle due fazioni in guerra deciso nella conferenza di Berlino lo ha annunciato il responsabile della politica estera europea Borrell dettagli operativi regole di ingaggio della missione militare che potrà prestare soccorso ai migranti saranno decisi dagli ambasciatori dal comitato militare che è presiudito da un italiano generale Graziano Secondo un rapporto delle Nazioni Unite la continua crescita degli allevamenti intensivi nel mondo è causa dell'aumento delle emissioni di gas serra un allarme per il nostro pianeta che deve fare i conti con una produzione di carni rosse cresciuta del 371% negli ultimi 50 anni se l'obiettivo sarà quello di ridurre i consumi anche per ridurre i rischi per la salute la carne rossa è fattore che porta il tumore anche potrebbero esserci ricaduti sulla filiera del settore che solo in Europa coinvolge 7 milioni di addetti ne parliamo nel Data Room con Milena Gabanelli Buonasera quindi anche questa sera ci tocca di aprire doverosamente con quello che sta succedendo sotto il cielo della nostra politica perché le nubi che portano i rischi di crisi di governo non si sono certo allontanate nonostante parole rassicuranti quindi da una parte si lavora per il dopo Conte dall'altro per il dopo Italia Viva vogliono buttare Italia Viva fuori dalla maggioranza ma se così fosse si farebbe un nuovo governo non le elezioni Matteo Renzi si affretta a ribaltare per iscritto nell'Anews formula autodomanda e autorisposta il punto di vista non è lui il guastatore demolition man come lo chiamarono nei suoi tempi d'oro sono gli altri Conte e il PD a volerlo cacciare quanto basta per dare corpo ai mugugni che nel PD hanno accolto ieri la sortita del grande consigliere di Zingaretti Goffredo Bettini Renzi è una tigre di carta meglio che se ne vada meglio una maggioranza con i soliti responsabili aveva sostenuto minaccia considerata controproducente da molti nel partito a cominciare da Franceschini e Guerini gli si regala la posizione di vittima mentre è lui che attacca su tutti i fronti la tesi ecco infatti la correzione di Zingaretti che nelle dichiarazioni affidate ai giornali si limita a spronare Conte all'azione e tutta la maggioranza ad uscire dal guado e nei sussurri veicolati dallo staff sotto forma di fonti PD tenta di far passare il classico non reagire alle provocazioni attenti ai blef di Renzi e questo è il clima perennemente di crisi incombente di movimenti in Parlamento e manovrine di palazzo tutte per ora più virtuali che reali il clima che si respira ai tavoli tematici voluti da Conte per comunicare l'idea di un governo impegnato e non bloccato tavoli ai quali i renziani partecipano oggi quelli dedicati ai decreti sicurezza che la ministra Lamorgese chiede di modificare almeno un po' e che costituiscono un'altra occasione di scontro interno motivo di rallentamento argomenti di divisione non mancano domani per esempio il decreto intercettazioni che arriverà in Senato i renziani hanno espresso riserve ma il governo ha deciso di mettere la fiducia e dunque di riassorbire il dissenso il blocco della prescrizione sul quale Renzi è tornato oggi minacciando per il prossimo futuro di nuovo la mozione di sfiducia contro Buonafede è rinviato e alla Camera il voto sulla proposta di legge del forzista Costa fatta per cancellare la riforma Buonafede non ai voti eppure per l'appunto i timori non di un ritorno alle urne al quale nessuno crede ma di un nuovo governo sono palpabili Renzi vede in Conte un bersaglio e il richiamo al nuovo gruppo di responsabili provenienti in parte da Forza Italia non aiuta sarebbe comunque un cambio di maggioranza che richiede passaggi formali e un ombrello del Quirinale e poi perché anche in Forza Italia dovrebbero immolarsi proprio per Conte se c'è la sicurezza di non tornare al voto almeno non nell'immediato viste le voci di eventuali governi elettorali si chiedono così fonti parlamentari di centrodestra meglio guardare al centro tra i movimenti di Renzi dunque anche in vista delle grandi manovre per il Quirinale riecco il riferimento al 2023 fine della legislatura che in effetti per ora coincide con il nome di Conte ma poi chissà come vedete una situazione molto ingarbuliata dove l'unica cosa chiara è che ci sono due che non si sopportano ecco la diciamo come se fosse una bega da ballatoio ma appunto in questo momento la scena politica è bloccata è condizionata dall'astio reciproco e da ciò che ne consegue tra il Presidente del Consiglio e un suo predecessore tra Conte e Matteo Renzi ne parliamo da molti giorni e abbiamo avuto modo di chiedere a SVG di tastare il polso all'opinione degli italiani la domanda in questi giorni si sta inasprendo lo scontro politico tra il Premier e Renzi secondo lei nello scontro Conte-Renzi ha ragione Conte 43% ha ragione Renzi 19% ma altrettanto pesante hanno torto entrambi 38% il che fa capire che c'è come dire spazio per tutte e due le forze in campo sia il conforto quasi maggioritario per Conte sia comunque una fetta che è quella che cerca una parte anche il leader e il fondatore di Italia Viva ma c'è un altro riscontro da fare come andrebbero le cose se si votasse oggi questo è interessante da vedere a sua volta la Lega è a quota 32,4% torna vicina ai massimi con un più 0,2% anche il Partito Democratico resta alto al 26% meno 0,1% rispetto a 7 giorni fa ma vedete cosa succede al Movimento 5 Stelle che fa in questo scontro assume il ruolo evidentemente di chi ne subisce le conseguenze meno 1% in una settimana dal 14 al 13% a tiro di si direbbe di Fratelli d'Italia 11,3% più 0,5% rispetto alla scorsa settimana Forza Italia 5,1% un meno 0,3% Italia Viva non ha contraccolpi negativi ma neanche positivi e resta inchiodata al 4,2% dietro Calenda 3% ed è un beneficiario di questa situazione Sinistra Italiana 2,9% Verdi 2,3% Più Europa 1,9% Come vedete la somma di tutte queste forze che stanno dalla parte del governo ed intorni e comunque del centro-sinistra potenzialmente arriva a una cifra superiore al 10% Cambiamo di Giovanni Totti del governatore della Liguria 1,2% stabile Ognuno ne tragga le considerazioni che vuole ma evidentemente la situazione è molto molto fluida in questa fase e in questa fase il leader della Lega ha intrapreso una nuova mezza crociata ecco non arriviamo a dire crociata perché ha preso di petto salvo poi fare dei distingo la questione aborto Ogni donna è libera di scegliere per sé e per la sua vita punto se ci sono degli abusi che mettono a rischio la salute di quegli abusi è giusto che la medicina si occupi e preoccupi e la politica non faccia finta di niente forse una marcia indietro rispetto a ieri o forse una semplice puntualizzazione per i soliti giornalisti che fanno finta di non capire fatto sta che ieri il capo della Lega aveva aperto una polemica epocale sull'aborto e sulla relativa legge la 194 che dal 1978 lo regola stili di vita li aveva definiti Salvini entrando a piedi uniti nel terreno delle questioni etiche e delle libertà individuali il problema non è la 194 ma che qualcuno se ne approfitti aveva aggiunto puntando il dito contro quelle donne che arrivano alla quinta alla sesta alla settima interruzione di gravidanza e usano il pronto soccorso come un bancomat senza pagare una lira eccessi li aveva definiti e oggi è toccato a una donna Giorgia Meloni riportare il dibattito su binari meno divisivi e dire che sì quelle parole sono state molto amplificate ma l'aborto non è mai una vittoria e spesso molte donne non hanno alternative ma la reazione della politica praticamente tutta è stata assai meno diplomatica a cominciare da sinistra con Nicola Zingaretti oggi guarda caso in visita a Roma alla casa delle donne che dal PD parla di una vera e propria aggressione alle donne Salvini come al solito fa confusione e dice bugie mettendo in discussione i diritti mentre la vice ministra 5 stelle dell'economia Laura Castelli si dice disgustata dalle parole di Salvini che riduce tutto a slogan comunicativi persino dal centrodestra da Forza Italia con Mara Carfagna arriva una leggera bacchettata al leader della Lega un aborto è sempre un dramma ma la legge 194 ha funzionato servono educazione prevenzione contraccezione importante è non banalizzare non banalizzare dice la Carfagna mentre Salvini si schermisce precisa come ognuno sia libero di gestire la propria vita l'aborto è una scelta che riguarda esclusivamente la donna certo puntualizza il capo del carroccio quegli eccessi fanno male alla salute se si parla di salute però in questi giorni non si pensa che al coronavirus e anche oggi è un vero e proprio bollettino di guerra quello che arriva dalla Cina ma ormai anche dal Giappone i numeri del coronavirus continuano a fare paura i morti sono 1775 e quasi 72.000 i contagi per le autorità sanitarie cinesi tuttavia l'epidemia starebbe rallentando i tempi di guarigione sarebbero più rapidi grazie alle diagnosi tempestive posizione che però contrasta con quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che oggi ha invitato alla massima cautela i dati sembrano mostrare un calo dei nuovi contagi ma questo trend va interpretato con molta prudenza perché può cambiare ogni scenario resta aperto e non sappiamo che direzione prenderà l'epidemia dice l'OMS che conferma il numero relativamente basso di contagi tra i bambini sul campo la situazione più critica resta naturalmente quella dell'Ubei di Wuhan dove tutto ha avuto inizio e dove oggi è morto Liu Jingming il direttore dell'ospedale Wu Chang settimo medico vittima dell'epidemia conferma che sono proprio loro e gli infermieri i più esposti sempre a Wuhan è stato dimesso un paziente curato con il plasma raccolto da persone guarite in tutta la provincia intanto sono entrate in vigore le nuove misure restrittive volute dal governo che ha chiesto a 60 milioni di cinesi di non uscire di casa emergenze a parte solo una persona per famiglia può andare ogni tre giorni a fare la spesa mentre tutti gli esercizi commerciali restano chiusi ad eccezione di farmacie hotel alimentari e servizi medici vietati inoltre l'uso di auto private a tempo indeterminato provvedimenti eccezionali per tentare di gestire l'epidemia come il probabile rinvio dell'appuntamento politico clou il congresso nazionale del popolo mentre non si placano le polemiche che hanno investito il presidente Xi Jinping che sarebbe stato al corrente della gravità della situazione fin dal 7 gennaio con il primo intervento ufficiale che però è arrivato solo 13 giorni dopo fuori dalla Cina intanto si aggrava la situazione a bordo della nave da crociera bloccata in quarantena nel porto giapponese di Yokohama i test hanno accertato infatti che altre 99 persone sono state contagiate in tutto gli ammalati sono ora 454 l'annuncio è arrivato dalle autorità nipponiche sempre più preoccupate tanto da annullare le celebrazioni per il 60esimo compleanno dell'imperatore Naruito previste nel fine settimana ma riguarda anche l'Italia tutto quello che sta succedendo anche la vicenda della nave da crociera da due settimane nel porto di Yokohama da cui sono cominciate come abbiamo visto le procedure di evacuazione secondo le varie realtà nazionali tra gli americani che sono rientrati c'era anche in realtà un italiano che è positivo al coronavirus e ci sono i nostri 35 connazionali già accertati e che devono rientrare al più presto un primo italiano ha già lasciato la Diamond Princess la nave da crociera bloccata ormai da 12 giorni sulla banchina del porto di Yokohama in Giappone è un uomo che vive da anni negli Stati Uniti sposato con un'americana sarebbe risultato positivo ai test del coronavirus è stato preso in carico dalle autorità USA e imbarcato su uno dei due voli charter che ieri hanno riportato a casa circa 300 americani i passeggeri hanno viaggiato isolati in queste cabine installate per l'occasione una volta atterrati sono stati portati in due basi militari per continuare la quarantena sulla nave dove i contagiati sono saliti a 99 454 in tutto rimangono a bordo i 35 italiani per cui ieri il ministro degli esteri Di Maio ha assicurato partirà un volo speciale per loro nessuno deve rimanere indietro stiamo lavorando perché un bang parta subito non c'è più tempo da perdere ha ripetuto oggi il volo potrebbe essere aperto anche ad altri europei ha aggiunto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ma l'operazione rientro al centro di riunioni e tavoli tecnici tra protezione civile e ministeri interessati non sembra imminente non si sa ancora quando partirà l'aereo dell'aeronautica militare con destinazione Tokyo non si sa se ne basterà uno solo nel caso in cui tra i connazionali ci fossero contagiati sarebbe necessario il ricorso alle cabine di biocontenimento si sta anche individuando il sito dove portarli per la quarantena una struttura militare a Roma dei 35 italiani sulla Diamond Princess 25 fanno parte dell'equipaggio compreso il comandante e dunque potrebbero dover rimanere a bordo notizie confortanti arrivano dall'istituto per la cura delle malattie infettive Spallanzani Niccolò sta bene per il 17enne friulano rientrato l'altro ieri da Wuhan sembra fin qui esclusa qualsiasi ipotesi di contagio anche le condizioni della coppia di cinesi arrivati dalla città epicentro dell'epidemia sono in costante miglioramento e torniamo nel Mediterraneo da qui ovviamente ci separa poco perché molti dei temi di cui si parla li approdano tra cui tra l'altro arriva l'eco dal consiglio dei ministri anzi da Palazzo Chigi dove ci sono i tavoli di lavoro del governo arriva la notizia che si va al superamento dei decreti sicurezza di Salvini attraverso due diversi decreti che si stanno impostando almeno questo è quello che risulta l'agenzia Agi uno sulla sicurezza e l'altro sull'immigrazione tra l'altro oggi da Salvini è partita la memoria difensiva sulla vicenda Open Arms che rivendica la bontà dell'operato e ricorda che non c'era porto sicuro per quella nave e che aspettava semmai l'accoglienza per questioni appunto di nazionalità dell'operatore al governo di Madrid ma le manovre navali chiamiamole così di sicurezza e di salvataggio nel sud del Mediterraneo erano anche uno degli obiettivi della missione Sofia a cui oggi praticamente si è posto fine e a livello europeo si lancia una nuova missione che serve soprattutto a frenare la guerra civile in Libia l'operazione Sofia sarà chiusa alla scadenza del suo mandato sarà sostituita da una nuova missione che avrà come scopo quello di fare rispettare l'embargo sulle armi ad annunciarlo l'alto rappresentante di Josef Borrell al termine della riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea un accordo politico che è stato raggiunto dopo lunga discussione all'unanimità dunque dopo quasi cinque anni di attività ed una proroga di sei mesi l'operazione Sofia che era stata decisa principalmente per mettere fine alle attività dei trafficanti di migranti nel Mediterraneo centro-meridionale il 31 di marzo cesserà di esistere al suo posto una missione sempre sul mandato ONU e da guida europea che dovrà vigilare con l'impiego di mezzi marittimi satellitari aerei affinché non venga violato l'embargo sulle armi come deciso a gennaio alla conferenza di Berlino in realtà la sorveglianza sul rispetto dell'embargo rientrava già nei compiti della missione Sofia che oltre alla lotta contro i trafficanti di esseri umani prevedeva anche la formazione della guardia costiera e della marina libiche e la sorveglianza sul traffico illecito di petrolio dal paese nordafricano le unità che invieremo nel Mediterraneo per controllare le rotte delle navi per la Libia spiega Borrell se incrociano navi che portano delle armi o sono sospettate di farlo dovranno intervenire saranno gli ambasciatori del comitato militare presieduto dal generale Claudio Graziano a lavorare sui dettagli e sulle regole di ingaggio l'altro rappresentante ha chiarito che la nuova missione sarà concentrata sulla parte orientale del paese nordafricano tra i compiti della nuova missione non potrà naturalmente essere escluso il dovere di intervenire per prestare soccorso ad eventuali naufraghi abbiamo convenuto che se per caso queste navi dovessero scatenare un pull factor cioè fare in modo che essendo vicino alla costa fanno partire più migranti la missione navale si blocca e questa è un'altra novità perché l'Unione Europea nei suoi statement riconosce il pull factor l'esistenza del pull factor e siamo all'appuntamento settimanale con il data room di Milena Gabanelli e questa sera si parla di un tema che ci riguarda tutti che ci deve interessare e che ci deve anche preoccupare lo sappiamo da anni gli allevamenti intensivi sono responsabili delle emissioni del 15% di gas serra riconducibili all'attività umana ma consumano enormi risorse anche qui per esempio per la produzione di un chilo di carne bovina occorrono più di 15.000 litri d'acqua contro i 4.000 per un chilo di carne di pollo e i 4.000 litri invece per un chilo di legumi l'80% di tutti i terreni agricoli del pianeta sono utilizzati per pascoli e produzioni di mangimi per esempio la soia contemporaneamente 800 studi epidemiologici hanno definito il consumo quotidiano di carne rossa come potenzialmente cancerogene e quelle trasformate certamente cancerogene riduzione delle emissioni i forum mondiali si danno degli obiettivi entro il 2050 occorre ridurre del 50% il consumo delle carni rosse ma intanto invece la produzione di carne bovina aumenta a livello mondiale il consumo di carne pro capite è passato dai 24 chili all'anno del 1964 ai 45 del 2015 ultimo dato disponibile ma Stati Uniti Australia Nuova Zelanda e Argentina superano i 100 chili in Europa la media è 90 chili l'anno in Italia siamo a 79 i consigli degli esperti si può dare a tutti le proteine che servono aumentando almeno del 20% la produzione dei legumi ma per cambiare modello occorre considerare che l'industria della carne che parte dagli allevamenti macelli trasformazione confezionamento distribuzione e passa dai veterinari farmaci produttori di mangimi occupa milioni di persone solo in Italia il comparto bovino da lavoro a 120 mila persone con un mercato da 10 miliardi a livello globale la stima è di 740 miliardi di dollari ora è possibile mantenere questa occupazione dirottando la metà nella produzione di cibo sostitutivo nei paesi che più producono e più consumano un progetto operativo non c'è insomma finché c'è la domanda è difficile che cambi qualcosa però le rivoluzioni possono anche partire dal basso è noto che un regime alimentare che consuma più verdura e assume proteine prevalentemente dai legumi uova carne bianca pesce moderatamente è più sano per la nostra salute e quella del pianeta ecco se prendiamo questa piega poi pian piano l'industria di conseguenza si adegua Buonasera Milena allora è anche una questione culturale oltre che tante altre cose non si può dire che si fanno le rivoluzioni perché lo consiglia il medico o lo impone il medico però è vero che quello che tu prefiguri come utilissimo e anzi necessario per tutti è già stato fatto ad esempio in gran parte per il fumo per i super alcolici dopo tutto di questo si parla di ridurre il nostro regime alimentare anche in qualche modo di cambiare le filiere cioè diciamo che per il fumo per gli alcolici per tutta una serie di prodotti c'è un warning dopodiché uno fa quello che vuole non è non è vietato fumare tre pacchetti di sigarette se uno vuole suicidarsi neanche mangiare una fiorentina una fiorentina al minuto la questione in questo caso intanto ricordiamo che il grosso delle emissioni di gas serra provengono da fonti fossili però il 15% di attività riconducibile di emissioni riconducibile all'attività umana responsabili di allevamenti intensivi insomma su questo almeno se crediamo a ciò che dicono i forum mondiali va ridotta della metà allora io penso che possiamo fare moltissimo noi perché quando vai il consumatore consapevole e responsabile visto che bene non fa mangiarne troppa visto che consuma un sacco di risorse ed è un problema planetario si può consumare di meno ciò detto è non so come dire incredibile che in tutti questi forum non ci sia una progettualità su come avviarsi verso dei modelli di transizione per la produzione di cibo sostitutivo e prima di tutto facendo i conti con l'occupazione perché una persona disoccupata a cui domani chiudono la sua imprese si ritrova su una strada sai cosa mi frega della salute del pianeta cioè dice adesso in futuro chi lo sa intanto mi trovo disoccupato e trovarsi disoccupati è una storia terribile quindi progettare la transizione io credo che questo vale per tutti i settori visto che dobbiamo cambiare modello produttivo non se vogliamo ridurre le emissioni che si usa da qualche decennio e che appunto si declina in genere in linea teorica poi è difficilissimo se non si ha sì anche perché non è che vogliamo parlare di decrescita che non è mai felice la decrescita ma di sostituire una produzione con un'altra più sostenibile quindi visto che nulla viene fatto tra l'altro è stato un lavoro incredibile riuscire a capire quanti addetti ci sono lungo la filiera perché è una filiera veramente lunghissima quella dell'industria della carne basta dire solo in Europa sono 7 milioni gli occupati e da questi 7 milioni è escluso tutto il settore del trasporto il settore della grande distribuzione perché non si riescono ad avere i numeri Milena ci è venuta una fame a fare questo discorso però l'abbiamo dovuto fare pazzesca vorresti una bistecca rossa durante la pubblicità prima di fermarci ti saluto e dico ai nostri telespettatori che gli ospiti di Lily Gruber a 8 e mezzo sono Gianrico Carofiglio Stefano Zurlo Jasmine Cristallo e Beppe Severnini poi c'è Eden con Licia Colo ci fermiamo diciamolo subito a scanso di equivoci Wall Street è chiusa vediamo soltanto come è chiuso quindi lo vedete insieme a me Milano a Piazza Fari più 1 e 0,2 l'ultimo indice Fuzi Mib e lo spread a quota 130 punti base è chiuso per il President Day che è oggi che ricorda Washington la borsa americana dopo di noi Gruber e Colo ci vediamo domani sera buonasera